La caldera di Coatepeque, una meraviglia geologica, si estende per 7 per 10 chilometri e a un lago calderico sul fianco orientale. Questa notevole formazione è il risultato del collasso degli stratovulcani situati appena a est del vulcano Santa Ana. Il bordo della caldera si innalza notevolmente sul suo lato occidentale, intersecandosi con Santa Ana. La genesi della caldera si sviluppò attraverso una serie di intense eruzioni esplosive e riolitiche tra circa 72.000 e 51.000 anni fa. Successivamente alla formazione della caldera, l'attività vulcanica comprendeva la comparsa di coni di cenere basaltica e colate laviche vicino al confine occidentale. Inoltre, una linea di duomi lavici riodacitici sorse lungo la periferia del lago caldera, con il più alto che formava Isla de Cabra, o Cerro Grande. Sebbene l'età esatta di queste cupole rimanga incerta, si stima che la più giovane, Cerro Pascio, si sia formata negli ultimi 10.000 anni. Le sorgenti termali costellano i margini del lago, contribuendo al fascino geotermico della zona. In particolare, non è stata documentata alcuna eruzione storica verificata, il che aggiunge uno strato intrigante alla mistica della caldera.